Salve a tutti. Eccoci al nostro consueto appuntamento, in cui prendiamo dei temi a carattere psicologico, a volte di psicopatologia, ma in senso domestico diciamo, e ne parliamo, li approfondiamo nella misura in cui può essere fatto tutto questo nell'arco di 4-5 minuti. Quindi oggi parliamo della condizione di fiducia-sfiducia. Un po' di tempo fa abbiamo parlato di tristezza, oggi di fiducia-sfiducia. Sarebbe come dire fiducia barra sfiducia, cioè qual è il rapporto individuale che noi abbiamo, riusciamo a intrattenere con questo aspetto dell'esistenza. Quindi la fiducia e la sfiducia. Ma in cosa? Intanto si può dire che è spalmabile su qualunque oggetto dell'esistenza. Avere fiducia nel domani, in se stessi, che è un classico, l'auto-empowerment va molto molto di moda, energizzare il se stessi e per farlo bisogna per forza di cose avere fiducia in se stessi, altrimenti è completamente irrealizzabile. Poi fiducia nella propria famiglia, nella propria moglie, nei propri figli, nel domani, probabilmente, l'abbiamo già detto, è sicuramente una delle prime condizioni su cui riporre fiducia. Nel proprio lavoro, nel proprio capo ufficio, in qualunque cosa. E sfiducia in cosa? Sono gli stessi argomenti che sono a volte destinatari della fiducia, altre volte in opposto della sfiducia. Dunque, questo aspetto va bene, è normale, ed è normale che sia suffragato da un pensiero, cioè si ha fiducia, per esempio, nel lavoro, quando ci sono le premesse che il lavoro vada bene. Viceversa sfiducia in tutto il lavoro, oppure in una sola parte, quando non ci sono queste premesse. La cosa diversa è, invece, quando, come si diceva l'altra settimana riguardo alla tristezza, questo diventa una nota costante, sempre presente. Cioè, si ha sempre la caratteristica della grande, straordinaria fiducia, e qui i proverbi popolari possono fare la loro parte, oppure, generalmente, viceversa, si ha una profonda, profonda sfiducia. Come nel caso della tristezza, banalizzandosi, parlava di tristezza, anche nel caso della fiducia, veramente dipende da come ci si sente. Non dipende solo dal fatto che un argomento possa essere incaricato di un aspetto oppure dell'altro. Cioè, c'è chi si sente sempre di dare fiducia e spesso incorre in dei problemi. C'è chi, invece, non si sente mai di dare fiducia. Allora, questi due aspetti così lontani, se sono ricorrenti, da cosa dipendono? Dunque, la mente, che non è da confondere affatto col cervello, il cervello è l'organo biologico, la mente è suscitata dai pensieri, frutto dell'attività cerebrale, ma non sono la stessa cosa, naturalmente. Quindi la mente si instaura, instaura se stessa, individua se stessa, quindi l'uomo ha una individuazione di se stesso, e si rende conto di come possa pensare alle varie circostanze della sua esistenza, a seconda di certi aspetti, che sono di carattere medico-biologico. Quindi se uno ha una sindrome particolare, o ha delle malformazioni cromosomiche, o delle delezioni cromosomiche, quindi manca qualche parte di qualche cromosoma, ha ovviamente delle caratteristiche anche mentali diverse, quindi fa anche pensieri diversi, in certe circostanze, oramai quasi tutte ben studiate. Quindi circostanze biologiche, circostanze di vita passata, perché la mente suscita i pensieri anche sulla base di esperienza di vita precedente, e intelligenza. Quindi più si è intelligenti, e più si ha una storia adeguata nel proprio passato, più si riesce ad avere una visione diretta verso la positività, o viceversa verso la negatività. In sostanza, si è come si è, a seconda di quello che si pensa, e quello che si pensa è dovuto al passato e alle condizioni della nostra mente. Grazie a tutti. Grazie a tutti.